ok si io sto aspettando che escono i miei amici perfetto e sospetti che escano le emmo quando escono le emmo completi la cosa da solo non è difficile guarda qua c'è scritta anche tattica per un giocatore boh la leggo ti dice di stare al piano di sopra cioè sopra le scale dove eri prima no? ok? a sparargli fra però aspetta a prendere l'emmo prima dopo tu vai di sopra con tutti gli zombie dietro e non dovresti avere problemi di sorta secondo quanto scritto no no secondo quanto scritto non dovrebbero esserci problemi quindi stai tranquillo a me mi sembra che chi abbia scritto questa guida si sia drogato si però non spararmi continua a girare per la borta in cielo mi agita un sacco vederti io non ho mai capito una cosa ma la vita di questo affare qua nel meltre si si sta ricaricata no 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 non penso e allora dopo 80.000 colpi di reagan e pompate e comandate ok si diciamo che dovrebbe essere andato giù però è ancora lassù ed è questa e questo è il vero spirito hai capito? never go down esatto quando quando qualcuno ti trascina verso il basso tu invece continui a salire lo comprendi jumbo? comprendo benissimo molto bene eccole lì bene bene ok salve almeno abbiamo preso il terzo round di emmo ce l'abbiamo ok 23 vai 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 dai che mancherà uno sputo a quel bastardo uno sputo guarda che bello sputo che gli sto dando ecco cane è invincibile lo stronzo ok ok però perchè ogni tanto fatti posto perchè si che cazzo era un po' di sperma ho buttato un po' giù si era l'avevi fatto innervosire troppo fra io controllerei sempre davanti tu alzi troppo la visuale fra se ti arrivano degli zombie non lo vedi e questa cosa a me non piace non so se è una cosa mia o cosa però mi mette in ansia ok è ancora incazzato si? è più incazzato di prima guardalo signore io nel frattempo così mi sto facendo un po' i cavoli di relaxing head si e a lui a un certo punto compare un timer a parte che vabbè ha una wunderwaffen e un mitra che non so che cosa spari ma spara a raffica di miliardi di colpi ma come l'ha passato questo step? si l'ho ucciso fra gira fra gira non prenderti dal panico gira fra non farti prendere dal panico sono morti tutti fra saldi ok aspetta che risponiamo server rientre the server room and obtain the nuclear codes fra non farlo facci risponare no è mia quell'arma è mia ma che cosa ha matto tutti ma perchè non torniamo in vita passa il round passa il round ti ho visto male anch'io fra ti ho visto malissimo lì ero morto ero morto ero morto in realtà no ragazzi non sto capendo che ok ok fra devi passare questo round 11 hai fatto il boss puoi fare anche questo ok? ok? devi completare il round e farci tornare in vita io ricordo che il round 11 noi siamo ancora su di solito a fare one man one door esatto ora esce il mondo quindi è un round del cazzo ce la puoi non entrare nella server room per l'amore del le ammo di nuovo vabbè tira un'altra scimmia e prenditela a sto punto cioè non so spamma scimmia qua adesso cos'è ci sono le ammo ogni round fammi capire ogni due minuti si bomba sta scimmia e farà che ti chiudono ok oppure manchi le munizioni come prima è successo due volte comunque mi sa che sta finito il round perchè c'è i saldi infiniti poi sotto? ma che cazzo? cazzo ho visto la bunder cazzo ho visto la bunder insomma quello di vedere però una domanda andiamo lì e mettiamo i codici ma che codici? spero che sia una cosa automatica si ci penso io tranquillo no è per ottenere i codici quindi stai shallow vuol dire che sarà da andare la premere F da quelle parti si mi saldi infinita quanto fai no non faccia cassa che io la vedo no 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 non si faccia cassa fra che io la vedo malissimo ma va e finisci poi la rave finisci 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 finisciari finisci finisci prima con la handwriting ma il il server è qua è qua è questo questo piano si è è quello dov'era prima no? ahhh porti sempre i latti ok per favore sono finiti! uccidi li uccidi li Muistare pene un secondo di più che magari mi cresci con l'ultimo zotto ecco aveva aveva quell'arma lì che avete visto qua non c'è più la mia arma cazzo prima c'errà la mia arma qua ok ok aspetta fammi fare la cassa Fatemi fare cassa Fatemi fare cassa Veloce veloci 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 cavati 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 già c'è una cassa Ma no ti prego no le 96 ti prego no le 96 ho tirato una scimmia approfittatene ti prego ti prego Ti prego no le 96 Anche io anche io Leri di capo va già meglio vai 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 cassa 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 che tu cassa che tu Comunque possiamo pagapanciare a mille punti se volete Ok anche quello lo farei magari per me Boh io ho fatto tre cassa in questa partita Ho attivato il defcon Dimmi che è mia Sì No è tua La Wunder Salve Ciambu ti ho fregato anche alla cassa Oh scimmia va benissimo va benissimo Vado nel server a vedere cosa c'è da fare ok intanto che tanto l'entro sono sicuro Tu stai shallow ok Sono di nuovo nella mia amata stanza server che voi non avete mai visto dall'interno oltretutto Sì Ah sei entrato tu fra Sì Io no È molto labirintosa vero? Ma il defcon è addiralmente Fra Chi è attimo Eeeh Ti lo lasce mi esco fuori Avvicinati alla porta Avvicinati alla porta Sono qua Sto cercando i codici Sono qua dentro Help me My friend Ok non ho trovato nulla Bisogna che ci faccio un giro prossimo round Non ho trovato codici Non ho trovato niente Voi siete vivi Tutto a posto? Sì Siamo al death con Laggando Ma che cazzo? Ok Laggando si impara Ricordatelo Oh mio dio Ho poi capanciato la pistolina Però vabbè Vabbè magari È forte Quindi se Io ho l'RPK Che devo cambiare Perché mi Boh Oh il Galil Forte il Galil Uh c'è il Galil Che figata Che però la Wunder Anche su 5 Non è il Galil È il Remington Ma che cazzo? Non era il Galil Beh insomma Non ho trovato nulla Fantastico Sono passato Ok Raga Vedo se posso rientrare Dimmi No non mi dico Ha crashato Raga Zambu Hai 76 di ping fisso Zambu È crashato il gioco Vero Zambu Io direi te Vero franche Come? Zambu Ragazzi? Mi sentite? Eh Lol Pronto 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 Ragazzi non mi sentono più Fantastico Sono nella stanza server Per controllare Le cose Devo aver tirato io la laggata Tipo del secolo Adesso Vedo se riesco a trovare I nuclear codes Molto scialamente Qua dentro Nella stanza server Non è però un'impresa Facile Perché questi Nuclear codes Non si sa dove Cazzo sono Io sono qua che giro Per cercarli Ma non trovo nulla Devo andare a vedere Devo andare a vedere Che cazzo succede Perché non sento più I miei amici Ok forse ora ritorno A connettermi Pronto 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 my friend Ruschi Hello my ruschi friend Sei tu fuori Wow Fantastico Che cazzo è successo La gatta del secolo Praticamente Beh comunque Strafra Che scrive in chat E poi va a terra E si lamenta Che va a terra E lì che scrive No E lì che scrive E poi va a terra E si lamenta Che va a terra E beh Insomma mi va chiuso Salve Adesso arrivo Arrivo a riconnettermi Io però Sono una persona responsabile Non lo fa durante Il round E questi qua invece Continuano a sprecare Le scimmie Cosa che Sta qua Non va molto bene Allora Vediamo se Tra l'interno Dopo durante la pausa Tenterò la connessione Ok Vediamo se Se mi coprono Allora facciamo Disconnettiti Stanza convinta Connessione al canale vocale Puntini puntini Dai 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 Perché sta facendo la connessione Al canale vocale In realtà non si connette Allora fai così Esci da discord Riapri discord E devo aver tirato Una lagatina io Vediamo Sto riaprendo discord Sono a secco Passate le munizioni E mi riconnetterò Al canale vocale Tra 3 2 1 Non si connette Ragazzi Perfetto Sì ma Mirko Non siamo messi In una posizione giusta Sì salve TS Non è che Crash No Jambu Vieni sull'altro Perché io il tuo Non ce l'ho nei bookmark Uno alla volta Andiamo Uno alla volta Io sono dentro Ehi Jambu vai tu Ok ragazzi salve Siamo Diciamo In preda Un problema tecnico Comunicazione vocale La mia connessione È tipo laggato E ora non si riesce più A connettere discord C'è Jambu che ha un ping di 999 Spero che non cresci Non crescerà Non crescerà Non crescerà Ritira sul gioco Jambu Ritira sul gioco Ritira sul gioco Ritira sul gioco Ok ha ritira sul gioco Adesso lo sposto dentro ragazzi E sentirete Sia Jambu Signor Jambu Eccoci 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 ragazzi Non so che cazzo è successo Tipo un mega bug Sì sono qui Sono qui Un tipo un mega bug a discord Siccome si è discord C'è ho tirato una laggatina io Giusto? Sì hai fatto una mega laggata incredibile Copritemi 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 Comunque Perché avete laggato anche voi E poi adesso discord Non si connette più No no franno Lasciarmi lo zombie Ero in icona Lo prendi Lo prendi Sono io Non so cosa sta succedendo Ok salve salve Che problemi tecnici risolti Ok ho cavato discord Perfetto Eccoci qua Sento il microfono di fralto Problema che discord non dava Devi continuare a parlare Farà così in un senso Ok allora parlerò in continuazione Aspettate un attimo No è morto lo zombie L'ho ucciso io perché È il momento di andare Nella server room Per me Allora aspetta Se riuscite a tenermi Un attimo Mi metto un attimo qua Subito tolgo il microfono Sono nella server room Devo trovare questi codici È la terza volta che entro Mi prego 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 Mi prego